Devo dire che è bellissimo stare qui, per quanto mi riguarda io sono solito passare le mie giornate, lavoro permettendo lì dove ci sono dei giardinetti, dopo che vado a prendere i miei tre bambini piccoli lì dove ci sono delle scuole elementari, quindi conosco bene questo posto, questo centro, mi ricordo com'era prima di questa riqualificazione e ho notato tutti i miglioramenti che di volta in volta venivano, mentre spingevo le altalene guardavo cosa succedeva qui e notavo l'erba che sembra quella di Wembley, è perfetta, infatti inizialmente pensavo fosse sintetico invece naturale, ho visto come è migliorata la pista d'atletica, il fit center, le 12 discipline sportive che si possono praticare con il nuovo campo da basket 3 contro 3, i campi da paddle, c'è qua il cuciu cambiasso che già si sta cambiando perché vuole giocare tra poco e quindi abbiamo l'evidenza veramente di essere davanti a un grande gioiello, è un progetto di riqualificazione effettuato con strutture all'avanguardia, all'insegna della qualità, all'insegna della sostenibilità energetica e noi sappiamo che questo è un quartiere pieno di giovani, di studenti e sappiamo quanto avere tanti giovani, tanti studenti renda un quartiere più vivace, più allegro, più colorato e lo sport fa lo stesso perché lo sport è elemento di aggregazione, di socializzazione, è quello che permette ai giovani di prendersi cura del proprio corpo e della propria salute e di unirsi per giocare qui e passare i pomeriggi nei momenti non di studio. Quindi è veramente un piacere essere qui e grazie a tutti voi e grazie a chi è presente qua con me. È un progetto nel quale il Politecnico di Milano ha creduto tantissimo, ha speso tante energie, tanti soldi anche, più di sei milioni di euro con una sinergia molto importante con il Comune di Milano. Quindi vorrei partire dal primo cittadino di Milano e salutare il sindaco. Prego Beppe Sala. Buongiorno a tutti e benvenuti al giuriati. Non è mio ma insomma posso provarci. Tra l'altro il sindaco è un grande amico delle scuole del quartiere perché ha fatto con noi il bici bus, ha distribuito là le borracce, si ricorda con Mengoni un po' di tempo fa, con l'Inter campione d'Italia, il Milan quasi in Champions League. L'Olimpia a Milano. Tra un po' Milano. Non rovinatemi, si va a votare adesso. Per dire le più importanti. Adesso anche il campus. Ci dice cosa rappresenta e che leva può essere anche a livello internazionale lo sport per una città come Milano? Ma io credo che noi usciremo anche da questa pandemia che è anche noioso continuare a citarla ma ci siamo avendo molto in testa la questione del benessere e quindi non solo sport. Sport, alimentazione, cura, medicina. Dopodiché lo sport è qualcosa che puoi fare ovunque ma quando ci sono gli impianti giusti cambia tutto. Allora noi abbiamo fatto in questi anni, abbiamo rimesso posto dal Vigorelli al Palalido, all'Arena, adesso giuriati. Come sempre si poteva fare di più ma bisogna andare avanti perché alla fine l'impianto è chiaro che attira. E c'è una cosa molto importante che ha detto lei. Citando il tempo che passa lì, i figli a scuola, noi abbiamo quest'idea della Milano dei quartieri. La chiamiamo la Milano in 15 minuti. Cosa vuol dire? Che in 15 minuti a piedi tu devi trovare, diciamo, ciò che fondamentalmente ti serve. Scuole, appunto, sport, medicina, verde, i servizi del comune. Ecco, sembra un'idea antica, no? Sai, ritornare ai quartieri. Invece è l'idea più moderna che c'è e questo è un ottimo esempio. Fantastico. E questo quartiere secondo me rappresenta perfettamente quello che sta raccontando lei. Le chiedo, visto che prima parlavo di una sinergia tra il comune di Milano il Politecnico, qual è la sua visione del rapporto tra città comune e università? Ecco, forse non tutti l'hanno bene in mente, ma noi non ci vantiamo mai di essere una città universitaria, ma abbiamo 200.000 studenti universitari su un milione e quattro di popolazione. È incredibile. Boston, che è la più famosa città universitaria, ha un ratio del genere. Quindi le università per noi sono fondamentali, sono veramente fondamentali, diventano attrattive, creano reputazione internazionale. Poi col Politecnico ne facciamo di ogni, perché adesso hanno lo sviluppo sul Bovisa, abbiamo ragionato sui tempi delle città, cioè come, per esempio, mettere insieme l'apertura dei negozi e della scuola con il trasporto pubblico. State lavorando sui nuovi sistemi di mobilità di ATM. Ne facciamo di ogni, per cui non solo solo prestigio, ma utilità concreta. Scelga una disciplina tra le dodici, lei è più campione di parto. Io ho passato la vita dietro il pallone, per cui sto su un classico. Grazie al sindaco Peppe Sala, che non è una cosa da poco è riuscito a parlare senza pioggia, ma ce la faremo, ce la faremo. Magari correndo con Giovanni Malagò adesso, Presidente del CONI, buon pomeriggio anche a Malagò e complimenti per la rielezione in un periodo in cui, ovviamente, il tema più forte, principale, più difficile, ma forse anche più affascinante è quello di riportare lo sport oltre la pandemia. Sai che qui si allenava il campione olimpico del 1500 a Los Angeles nel 1932? Qui è stato stabilito, ma non omologato, il record di lancio del disco negli anni 40, e ci sono un'altra serie di record che appartengono a questo impianto. Che impressione le fa? Primo colto, ho sentito mentre è entrato, dopo che è entrato, ma che meraviglia. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, sono molto felice. Sono anche emozionato perché la prima uscita ufficiale dopo ieri l'assemblea elettiva del Comitato Olimpico, ci tengo a dare una sottolineatura perché non è stato casuale che siamo voluti venire qui a Milano in Lombardia a portare quello che è il momento più alto, se non altro, istituzionale del mondo dello sport e del Comitato Olimpico. Perché questa è una città che ci ha dato fiducia, è un'amministrazione che ci ha dato fiducia in epoche non sospette, una regione che ci ha dato fiducia anche qui in momenti non certo scontati, il CONI e ovviamente la mia persona dovevano dargli un segnale di ulteriore, l'abbiamo fatto tante volte, lo continueremo a fare in futuro di riconoscenza, di gratitudine e quindi siamo voluti tornare in un luogo simbolico anche del nostro mondo che il tennis club Milano, Alberto Bonacossa, dove non tutti sanno, così come questo record non omologato, 75 anni fa il mio predecessore Giulio Onesti volle fortissimamente portare l'assemblea elettiva dopo il conflitto della seconda guerra mondiale qui a Milano. Perché? Innanzitutto perché Alberto Bonacossa era un collega del CIO. Secondo perché era un segnale forte nei confronti della politica che, voi sapete, Onesti entrò al CONI come commissario liquidatore e invece poi si rese conto che il Paese aveva bisogno del CONI e soprattutto voleva rispettare la sua storia che fino a quel momento era comunque una storia importante. La terza cosa perché nessuno sa che Alberto Bonacossa, o quantomeno se no gli storici malati del nostro mondo, fu un milanese polifunzionale, presidente di tante federazioni, che per primo portò le Olimpiadi nel nostro Paese, per esattezza quelle di Cortina d'Ampezzo, ma non quelle del 1956 che si sono svolte, ma quelle del 1944 che ovviamente, dato il tema del conflitto mondiale, non si svolsero. Ma la sua caparbietà, la sua opera di convincimento, forse anche il credito che aveva acquisito, malgrado l'Italia usciva a pezzi dalla seconda guerra mondiale, lo portarono a ripresentare la candidatura del 1956 che anticipò poi quelle estive di Roma del 1960. Corsi e ricorsi storici al quale secondo me il nostro mondo, se non altro per valori e per tradizione, deve sempre fare riferimento. Sono felice, devo dire la verità oggi di essere qui, complimenti rettore, complimenti veramente bravo, bravo perché so quanto c'è stato di impegno e di edizione. Cara Roberta, vi voglio raccontare una cosa, ci saremmo sentiti venti volte, questa data l'abbiamo spostata venti volte, non certo per colpa di nessuno, ma per colpa della pandemia. Ve lo giuro, un affettoso stalkeraggio ogni volta di mese in mese e dicevamo ci riusciremo, sarà la volta buona, finalmente ci siamo, chi la dura la vince, ma devo dire che questo spettacolo vale la pena. Felice di vedere un amico Calvetti, l'amico Rocca, felice di vedere Frank Terglos, che è un amico, un'azienda che conosco in un modo quasi viscerale. Sono contento di vedere tutti i rappresentanti del mio mondo, gli atleti, abbraccio tutti, chiedo scusa, saluto solo gli olimpionici, vedo Filippo, vedo Iuri, Giorgio e poi consentitemi di dire l'ultima parola, l'ultimo pensiero per me fondamentale. Da ieri Milano, per la prima volta, c'è una vicepresidente del CONI, donna, è la responsabile della città di Milano. Facciamo un grande applauso a Claudia Giordani, che è qui con noi. Claudia, ti dico subito, oggi sono qui perché ieri c'è stata l'Assemblea, da adesso tutte le cerimonie, non puoi mancare, per cui vi avviso, sarà non solo l'ambasciatrice, ma sarà la capa di tutto questo. Grazie e complimenti. Il sindaco ha detto che il suo amore è il calcio. Io sono parente, visto una lunga storia e qualche ginocchio lasciato, ma anche qualche soddisfazione importante, io mi limito al calcio a cinque, oppure come lo chiamiamo quelli della mia generazione, il calcetto. Grazie a tutti e complimenti. Tra un po' ci sarà una sport experience in mezzo al campo. A questo punto l'ha fatto già il presidente del CONI, Giovanni Malagò, a nome di tutti noi. Vorrei anch'io salutare e ringraziare il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. Buongiorno anche a lei. Grazie, grazie. Ricordiamo, perché probabilmente non l'ho ancora detto, ma questo ovviamente non è un impianto aperto soltanto agli studenti del Politecnico, ma è un impianto aperto a Milano e ai milanesi. Per i milanesi, per chi vive a Milano, per chi in qualche maniera decide di studiare qui, lavorare qui e vivere a Milano. È per questo che l'abbiamo voluto. Con tante energie, con tanta fatica, con un grande investimento, mettendo il meglio a vostra disposizione, perché? Cioè, cos'è che vi ha spinto queste imprese? Ma noi crediamo in un'università che non è fatta solo di una lezione, di un docente e di un'aula con 200 posti. Noi crediamo in un'università fatta di relazioni, fatta di confronto. Crediamo in un'università che non ha paura a confrontarsi in modo competitivo, attrattivo, collaborativo con le migliori università del mondo. E quindi abbiamo bisogno di un'università che, a fianco a una formazione di grande qualità, ha un corpo docente di eccellenza, fa progettualità, fa laboratori, ma fa anche servizi e standard di grande livello. Quindi il messaggio di oggi è ringraziamo la DAD, siamo veramente fieri di quello che ha fatto, ma adesso basta. Adesso la archiviamo e ci riportiamo intorno a un campo verde. Quindi grazie DAD per questo aiuto, ma basta. Però il Rettore mi deve dire una cosa, perché mi è venuto il dubbio vedendo tutti questi ragazzi che sono fantastici, sono sia atleti sia studenti. Quando li incontra nei corridoi del Politecnico, chiede i risultati, quanto hanno saltato in lungo o si fa mostrare il libretto? No, il libretto l'abbiamo archiviato tante tempo fa. Ormai non c'è più. Ormai non c'è più. Però l'incontro, devo dire che prima del 2019 non ci conoscevamo. Poi quest'anno di webinar, di video, ormai si è molto più popolari perché siamo stati tanto in video e quindi oggi incrocio gli sguardi dei ragazzi che frequentano i nostri spazi, frequentano le nostre aule e veramente ti si apre il cuore. Bravi ragazzi, adesso l'applauso anche per loro perché se lo merita. Grazie Rettore. Grazie a tutti voi. Chiedo scusa se negli olimpionici mi sono scordato un signore che ne ha vinto appena tre di medaglia d'oro e anche qui nel ruolo importante istituzionale della regione, Antonio Rossi. Grazie. Grazie Antonio. Ma che vista che hai. Poi mi dice Rettore quando è stato abolito il libretto. È stato abolito una quindicina d'anni fa perché ci facevamo condizionare l'uno dall'altro. Non voglio saperlo. Grazie mille. E questa era la vera motivazione. Grazie ancora. Saluto anche Frank Denglo che è qui il più vicino a me. Ciao Frank, amministratore delegato di Adidas e Staglia. Il presidente Giovanni Malagò ha sottolineato il vostro rapporto, la vostra amicizia. Voi avete fatto tante cose per il Politecnico di Milano. Mi spieghi come mai, da dove nasce questa collaborazione? Buongiorno a tutti e grazie per la domanda. Grazie anche per l'invito. È un onore per me e per Adidas. essere qui con voi per questa grande giornata. Prima di rispondere, avrete capito che il mio italiano non è molto buono. Ci provo, ma ho bisogno di punti. Quindi, come Adidas, tutto ciò che facciamo è radicato nello sport. Ogni singolo giorno e in questi tempi difficili sempre di più, lo sport gioca un ruolo chiave nella vita di tutte le persone. dentro e fuori dal campo del gioco. Il nostro scopo, through sports, we have the power to change life, attraverso lo sport abbiamo il potere di cambiare la vita delle persone, ci guida in ogni nostra attività. dalla più piccola azione quotidiana a come gestiamo la nostra azienda, da come seguiamo e lavoriamo con i nostri partner, a come creiamo i nostri prodotti e come ci impegniamo con i nostri consumatori. La scelta di diventare partner del Politecnico di Milano è stata quindi immediata e senza alcuna incertezza. Con il Politecnico condividiamo gli stessi sani principi e valori, soprattutto la stessa identica passione per lo sport. E per questo che da oltre tre anni siamo title sponsor dell'Adidas Runners Polymeron, vendendola a crescere fino a diventare uno dei principali eventi della città e dell'Italia, raddoppiando di anno in anno il numero di partecipanti all'evento. È stato naturale continuare di fianco al Politecnico anche nella ricalificazione di questo splendido centro sportivo, come uno dei principali e dei più completi spazi di Milano in cui fare sport. L'inaugurazione di questo impianto coincide con il ritorno della nostra storica compagnia «Impossible is Nothing», che esprime con estrema chiarezza la capacità di individuare nuove possibilità con l'autismismo per creare un futuro migliore per le persone, per le città come Milano e per il pianeta. Il Giuriati rappresenta la perfetta sintesi di questo pensiero, grazie proprio alle sue caratteristiche. Grazie ancora a Politecnico, grazie Marco, grazie per l'invito e a tutti per l'attenzione. Ciao. Applauso triplo per Frank D'Anglo. È veramente impossibile, niente impossibile lo slogan adatto anche a questa presentazione. Roberta Guaineri, che ha stalkerato quanto pare Giovanni, confermi venti volte, ma saranno anche di più probabilmente. Assessora, un applauso anche per lei, al turismo, allo sport e alla qualità della vita. E direi che proprio il concetto di qualità della vita mi sembra al centro anche di questa presentazione, per Milano e milanesi, no? Assolutamente sì, devo dire che Milano ha molto lavorato in questi anni sulla riqualificazione degli impianti sportivi. C'era questa immagine di una città che non aveva appunto impianti, adesso ne ha tanti e oggi siamo qui a vedere una bellezza, un fiore all'occhiello, perché crediamo fortemente che lo sport sia non solo un mezzo di aggregazione, ma soprattutto debba avere dei luoghi dove questa aggregazione si riesca a realizzare. E oggi siamo in un centro, appunto, in un quartiere importante della nostra città, siamo in un quartiere universitario e gli universitari nel mondo scelgono le università anche sulla base dell'offerta sportiva che ciascuna università riesce a offrire. Quindi è bellissimo vedere come tutte le nostre università in questi ultimi anni abbiano investito nello sport. È un centro aperto a tutti, come abbiamo detto, quindi adulti, bambini, ragazzini, per tutte le ore del giorno e anche della notte. Anche perché c'è un nuovo impianto di illuminazione. Faranno le aperture notturne. Ci sono dodici discipline che si possono praticare, quindi ognuno troverà la sua. E quindi siamo in un posto meraviglioso. E anche io ringrazio molto il Politecnico. So quanta fatica è stata fatta. E quindi sono veramente orgogliosa che Milano abbia questo nuovo centro rinnovato. Io venivo a correre qui anni fa e mi ricordavo com'era la pista e soprattutto com'erano gli spogliatoi. Oggi è un'altra cosa. Se avete occasione di andare a visitare il centro, anzi dopo ci sarà una visita, vedrete la bellezza di tutti i dettagli e di tutta la riqualificazione importante che è stata fatta. Quindi si può tornare a correre. Assolutamente. Grazie mille a Roberta Guaineri. Francesco Calvetti invece, delegato del Rettore per lo Sport, però mi hanno detto in soldoni un po' il Ministro dello Sport, il Politecnico di Milano. Non so quanto ti piaccia questa definizione. Sicuramente ti piace il centro. Vorrei sapere da te quanto il Politecnico incentiva la pratica sportiva nei ragazzi. E ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ministro è il modo in cui mi chiamano i miei amici, ma credo un po' per prendermi in giro, diciamo così. Però comunque è vero, sì, c'è questa diceria. Intanto vorrei dire grazie a tutte le persone, tante sono qui che hanno lavorato per questo progetto, ci hanno creduto. È stata quasi una competizione, diciamo che questo lo viviamo un po' come un traguardo, anche se poi ogni punto arriva a un punto di partenza, per iniziare a utilizzarlo, per nuove attività, per nuove altre avventure, come diceva prima il Rettore in Bovisa. Ma noi crediamo molto nel fatto che la nobiltà dello sport, dei valori dello sport, facciano dello sport un elemento fondamentale per la vita delle persone e dei nostri studenti in particolare. Abbiamo finalità di tipo sociale, di tipo formativo, di tipo educativo, che attraverso lo sport è facile raggiungere. Quindi noi abbiamo studenti, ad esempio, che vengono da tutto il mondo, abbiamo bisogno di accoglierli quando arrivano al Politecnico. Come diceva prima il Rettore, non è solo questione di acquisire una professionalità. sono tre, cinque, due, poi dipende dal percorso che uno fa, anni della vita dei ragazzi, in cui è fondamentale che le barriere che sono magari costituite dalla diversità vengano abbattute. Bisogna costruire ponti, bisogna dare la possibilità alle persone di affacciarsi a questo nuovo mondo e farlo in un ambito che sia molto accogliente. Abbiamo bisogno di persone che siano forti nella consapevolezza delle competenze che hanno, che siano in grado quindi di affrontare la società e il mondo del lavoro con lo spirito di chi soprattutto pensa di poter dare qualcosa. Pensa che le proprie capacità che sviluppano, che vengono sviluppate nelle aule, ma anche quelle trasversali o i soft skills, come le chiamiamo, che vengono sviluppate, ad esempio, su un campo sportivo, siano fondamentali per imparare a mettere il proprio talento al servizio degli altri, ad esempio in un gioco di squadra. così come è importante, abbiamo già parlato prima, che i ragazzi giovani che non appartengono alla classe di popolazione che forse ha più a cuore il proprio benessere fisico, magari perché lo si dà per scontato e lo si sottovaluta, è importante che queste persone invece si appassionino anche a questo aspetto. Se vogliamo, senza ripetere la frase nota a tutti che riguarda il fatto che è importante avere un pari sviluppo mentale e fisico, diciamo così. Quindi noi cosa facciamo? Cerchiamo di proporre agli studenti, ma anche a tutte le altre persone che volessero accogliere, diciamo così, la nostra proposta, una serie di attività che siano funzionali a questi scopi. Abbiamo, ad esempio, la Polimirandi, di cui abbiamo già parlato, che è una grandissima festa dell'accoglienza della comunità, una comunità che deve essere sempre aperta, perché ogni comunità al suo esterno non è una più ampia, dove non solo quel giorno si corre, anzi due giorni, perché abbiamo due edizioni annue, ma si impara durante l'anno a correre, a muoversi, a avere cura del proprio corpo e così via. Così come i campionati che si svolgeranno finalmente qui per i nostri studenti, sono campionati che insegnano a mettersi in gioco anche oltre l'impegno nelle aule, così come poi tutte le attività che liberamente gli studenti potranno svolgere in questo centro e in tutti gli altri campi sportivi, piccole installazioni, playground di cui abbiamo disseminato i nostri campus. Troppo per far passare il concetto che un momento libero può diventare un momento di sport e di socializzazione. Grazie mille a Francesco Calvetti, un applauso anche a lui. Manca solo una voce, c'è un ragazzo là in fondo, del 1998, giusto? Sì. Studente, si chiama Guido Sassaroli, studente ma anche rappresentante degli studenti del comitato sportivo, quindi sei tu, Guido, doverci raccontare come si possono combinare i due aspetti. Ciao innanzitutto, grazie. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Come è già stato detto, lo sport ha la base dei valori che sono molto simili a quelli dell'università. Basta pensare al lavoro di squadra, alla leadership, ma anche all'allenamento costante volto ad un'ottica di miglioramento personale. Purtroppo però troppo spesso lo sport viene visto soltanto come del tempo sottratto allo studio, come una semplice attività di svago. Invece il Politecnico promuove con decisione gli aspetti sociali, formativi ed educativi dello sport, visto proprio come parte integrante dell'offerta formativa. Ed oltre a valorizzare i campioni che abbiamo come studenti attraverso le borse di studio e il progetto Dual Career, si vuole promuovere un'idea di sport per tutti, affinché anche chi non abbia mai praticato una particolare disciplina possa soffrire di tutte le attività che questo centro sportivo possono offrire. ed è anche proprio grazie alle numerose attività e agli investimenti che il Politecnico sta facendo proprio come questo centro sportivo che gli studenti stanno inserendo nella loro quotidianità universitaria lo sport. non lo vedono più come una semplice del tempo perso rispetto al percorso accademico ma lo vedono come un completamento di quest'ultimo. E in conclusione quindi credo che sport e università debbano collaborare per gli stessi obiettivi perché uno studente che sa coniugare allenamento e lezioni esami e partite anche se non diventerà un campione sicuramente potrà essere un ingegnere un designer e un architetto più completo con più capacità trasversali. Bravo, bravissimo Guido. Tu cosa studi Guido? Ingegneria dell'automazione. Come sei messo? Bene. Cioè hai risultati migliori nello studio o nello sport? Nello sport. No. Uguali, uguali. Eccellenti entrambi. Grazie, grazie a tutti. Davvero. Io volevo darvi qualche cenno storico. Prima ho accennato col presidente Malagò all'Olimpionico del 1932 al detentore del record Adolfo Consolini negli anni 40 non omologato poi vinse successivamente molte gare. È un impianto che originariamente è stato costruito nei primi anni del Novecento opera tra l'altro di un architetto che era uno studente del Politecnico di Milano Luigi Lorenzo Secchi e ne approfitto per salutare la figlia di Luigi Lorenzo Secchi Luisa Secchi Tarugi che è presente qui con noi. Questa struttura venne intitolata magari qualcuno se lo sta chiedendo chi era Mario Giuriati. Mario Giuriati era un sottotenente giocava all'Enotria chi tra voi conosce Bazzica un po' nei campetti della città è un club storico lo conosce è un club addirittura del 1908 dove giocava Mario Giuriati quasi disputò pensate la prima partita di baseball in Italia nel 1968 giocavano gli Yankees di Milano contro il baseball Milano per dire quanta storia ci sia anche in questo impianto che è stato riqualificato vorrei salutare tutti i giornalisti innanzitutto i ragazzi ovviamente tra loro ci sono tanti studenti che si sono distinti proprio per le prestazioni sportive in varie discipline ne cito alcune salto canoa football tiro con l'arca vela pattinaggio chi più ne ha più ne metta li vorrei ringraziare e salutare uno per uno Leonardo Puca Leonardo Cuzzolin Bianca Chiusi Riccardo De Tollis Alberto Garlaschelli Jessica Lucchetta Francesco Tomaselli Nicolò Villa Filippo Vincenzi Maurizio Marassi Lorenzo Guslandi Davide Rossi Linda Olivieri Gabriele Acquaro Micol Maiori Martina Mazzola Ilaria Turtula e Giada Barbugliani spero di non aver sbagliato nessun accento ora direi che con questo sì molto felice di vedere qui anche il presidente del comitato paralimpico della Lombardia Pierangelo Santelli con tutta la rappresentanza è un segnale fondamentale per i giuriati grazie io posso dire che se non ci fosse lei cioè mi sto toppando sto prendendo un sacco di buchi e grazie allora dell'assistenza però adesso deve battere un rigore presidente Malagò deve sfidare in porta chi c'è in porta possiamo decidere possiamo decidere non so c'è un portiere tra i ragazzi sì ah lì c'è c'è il portiere serio abbiamo evitato di fare rettore resta contro sindaco sala per evitare di fare Juve Inter il giorno prima sarebbe stata piena di troppi significati quindi facciamo sfida Malagò resta e vi invito l'ora vicino alla porta se vuole venire anche lei sindaco se volete venire tutti così facciamo un po' un po' il tifo anzi il sindaco Beppe Sala può fare come Beppe Bergomi quindi fare il commento tecnico porta l'erba è straordinaria bellissima si si potrebbe la taglieranno adesso non so se il presidente Malagò vuole fare il cucchiaio ovviamente non possiamo cosa sta facendo tra l'altro poi vedremo anche ci sarà una staffetta 4% vi presento tutta l'area calisthenics è uno dei pochi impianti a Milano con un'area adibita a questa pratica sportiva è una disciplina che ha preso molto piede negli ultimi tempi la vedete ci sono i due campi da paddle a proposito di prendere piede il paddle ovviamente sta avendo un successo straordinario e quell'area là in fondo è un fit center di 1200 metri quadrati su tre piani con aree relax per attività aerobica kettlebells ci sono delle attrezzature della techno gym molto tecnologiche sofisticate e moderne il dischetto e il pallone soprattutto è sul dischetto chi è che batte non so se volete fare bim bum bam il sindaco non tira Malagò controresta a meno che non voglia calciare anche dopo anche il sindaco incredibile sindaco raccolto il guanto di sfida sarà il primo a calciare raccomandazione del rettore al portiere devi far fare gol al sindaco oh portiere portiere andrà in onda su tutte su tutte le mittenti dei visi quindi non farti ingannare dal rettore che dice di far fare gol al sindaco perché se ti vede qualche talent scout si siete proprio sulla traiettoria dietro la linea del pallone no attenzione parte sala destro incredibile aveva calciato bene con precisione e potenza ma il portiere ha detto di no e si merita la braccia del rettore forse anche un 30 questo è già laureato sto ragazzo si dalle immagini pare che si sia mostro prima il portiere ma facciamo notte se lo ripetiamo ogni volta attenzione a Malagò che ha la possibilità di fare ha la possibilità di far il cucchiaio vediamo se lo fa va Malagò nell'angolino ed esulta come Ibrahimovic allargando le braccia e guardando gli spettatori sugli spalti occhio al rettore però contro il suo alunno il futuro di questo ragazzo dipende da cosa farà su questo calcio di rigore va resta rete sconsolato il sindaco Beppe Sala cioè vabbè ha vinto lo scudetto sindaco secondo tentativo secondo tentativo andiamo ad oltranza tipo i rigori di Rio Ave Milan pioverà allo stesso modo tra l'altro va a Sala portiere altissimo col destro stesso angolo e il portiere questa volta non ci arriva arriva la traversa al portiere tra l'altro quasi è un pilone del rugby bene grazie grazie a tutti io volevo invitare anche prima l'abbiamo nominato e citato Esteban Cambiasso che è da qualche parte ma non so dove forse già i campi da paddle Cuccio eccolo non serve che lo presenti dieci anni all'Inter venticinque trofei in carriera il triplete ovviamente guarda guarda Esteban ai giardini ci sono i tifosi dell'Inter ciao Cuccio come va tutto bene li hai già visti i campi da paddle li ho visti da lontano ma no soprattutto uno spettacolo io innanzitutto saluto tutti ero in tribuna lì a a guardarvi e faccio fatica ti dico la verità se fosse qua mi lasci qua in mezzo al campo non so da dove andare sono nato cestista sei anni dopo ho fatto una vita nei prati verdi giocando a calcio e adesso sono molto appassionato del pad quindi complimenti perché avete fatto una cosa per tutti quanti e come hanno già detto tutti prima qua lo sport è passione lo sport è vita e lo sport è anche educazione quindi tante delle cose che abbiamo imparato nella nostra vita le abbiamo imparato nelle mura dello spogliatoio e anche sui campi il rispetto accettare le decisioni di un altro quindi tutte queste cose che ci hanno servito per essere migliori non come sportivi ma per essere migliori come uomini grande Esteban voi sapete che quando cambiasso incontra non so Di Canio Bergomi Costa Curta nei corridoi di Sky è sempre lanciarsi una sfida ci siamo visti questa mattina per giocare a paddle vediamoci anche domani perché ormai c'è un giro di giocatori di padel clamoroso tu mi hai sempre detto di essere il più forte praticamente di questi se vuoi già iniziare a prenotare dei campi facciamo la partita d'apertura qua questo sicuramente te l'avrà detto qualcun altro perché io mai in vita mia ho detto di essere più forte a nessuno sport quindi me l'ha detto Billy forse Billy mi ha detto che tu sei il più forte forse Billy questo senti ti ha mandato alla fine l'Inter la maglia con il numero 19 che era il tuo numero ed è il numero di scudetti che adesso l'Inter imbacchia li ho scritto magari se avevano perso il mio indirizzo ma secondo me ce l'anno arriverà però a parte le battute sì come diceva come diceva prima il sindaco un'annata positiva per tutta Milano io sono milanese d'adozione avrei potuto vivere ovunque ho finito la carriera non qua l'ho finita in Grecia ma dopo abbiamo deciso con la famiglia di venire qua e per Milano è un posto magnifico e per lo sport di Milano anche il fatto per esempio di avere Olimpia nella Final Four dell'Euroliga è molto molto importante andavi spesso al forum a vedere l'Olimpia sì sì adesso manca un po' però ci stanno dando grande soddisfazione tramite lo schermo erba basket paddle quando vuoi ci vediamo mi manca un letto da qualche parte ma potrei ma sai secondo me ci sono anche i letti grazie mille Cuccio grazie a Esteban Cambiasso grazie vuoi tirare un calcio di rigore anche tu? no no ha già fatto pararlo no cos'è? come? sì allora andrei nella zona del salto in lungo perché vedo che c'è del del movimento e credo di aver riconosciuto dove è Ottavia? io non ho gli occhiali Ottavia Cestonaro dove è? dove è Ottavia? intanto si allenano eccola lì infatti mi chiedevo dove fossi finita ciao ragazze ciao metaglia d'argento nel salto triplo giochi del Mediterraneo del 2018 campionessa europei unione nel 2013 una serie di grandi successi poi detieni sei record giovanili no? che record sono? ma record un po' così no no sono record di salto in lungo salto triplo e prove multiple perché a livello giovanile praticavo più specialità dell'atletica leggera ma adesso stai allenando le ragazze? no diciamo gli do qualche consiglio giustamente no questa è la mia casa io passo più ore qui che a casa mia praticamente ah no ci vediamo io sono là dove ci sono gli scivoli ma che consiglio dai allora per saltare bene così giù? ma semplice correre veloce staccare potenti quindi mettere bene il piede a terra e poi volare più distante che si può facciamo fare un salto e lo valutiamo insieme come si chiamano le ragazze? sì Martina e Ilaria fantastico con il suggerimento giusto allora dai e da quanto dove devono prendere la rincorsa? dovevamo andare? no allora una delle due fa le prove multiple mentre l'altra è più specializzata nei salti quindi ognuna ha la propria rincorsa in base poi a quanti passi fa sì perfetto vai c'è un fischio come nel calcio? no no partono loro quando vogliono con l'applauso del pubblico magari pubblico sostenete no più ritmato siete mai stati a un'olimpiade? vai insegna tu allora bisogna andare piano esatto ritmare come quando corrono e velocizzare sul finale ah nullo stacco libero oggi ah ok allenamento bravissima ancora applauso ritmato ma brave grazie grazie mille ottavia grazie a voi e buono sport a tutti buono sport a te ciao un'altra area ah è là l'area calisthenics adesso devo andare di corsa là ci sono due ragazzi Riccardo e Alessandro che si stanno ciao Riccardo e ciao Alessandro è una disciplina sportiva sempre più praticata soprattutto in questa fase in cui è necessario trovare delle attività individuali da svolgere all'aperto per tenersi in forma mantenere il proprio corpo in allenamento e per raccontarci un po' del calisthenics io vorrei invitare il re il signore degli anelli che ha dominato la scena mondiale negli anni novanta campione del mondo dal novantatré al novantasette medaglia d'oro ad atlanta millenovecentonovantasei cioè Yuri Keki che arriverà intanto vado da Riccardo e Alessandro fateci vedere qualcosa ragazzi qualcosa di sensazionale oh la la questa è la bandiera come si chiama bandiera qualcosa di parallele adesso facciamo un'intervista mentre sei così ce la fai? ok rimani così vai come ti chiami? Riccardo Zito quanti anni hai? 24 cosa studi? ingegneria nucleare quanta fatica stai facendo? abbastanza bravo bravissimo rifai la bandiera tu? no è difficile? eh? sì no vediamo eh tu sei? pare Solessandro quanto tempo riesci a stare così? è già abbastanza ok non male grazie ragazzi intanto io raggiungo Yuri Chechi il centro sportivo Giuriati è uno di pochi ad avere un'area dedicata e riservata a questa a questa attività conoscete tutti Yuri non chiederò a lui di fare la bandiera anche se ovviamente darebbe no potrebbe insegnare tante cose ancora ovviamente a tutti noi ciao Yuri e grazie innanzitutto racconta ciao il Calisthenics a chi non lo conosce intanto grazie buonmeriggio a tutti grazie per l'invito e prima di rispondere velocemente farmi fare anche a me vorrei fare anche io complimenti per questo straordinario progetto è un esempio meraviglioso di quanto lo sport possa e debba essere a disposizione della cittadinanza della popolazione delle persone io credo che diventerà deve diventare un diritto per tutti magari metterlo nella costituzione chissà se un giorno ci riusciremo perché è per me molto importante e questo è un esempio straordinario appunto di quello che potrebbe fare e dare lo sport ad uno di noi tra questo è anche la disciplina del Calisthenics sicuramente è una disciplina molto importante interessante nuova è una disciplina dove con il peso del proprio corpo utilizzato nel modo migliore e con un po' di piccoli attrezzi come avete messo lì quella bella struttura mancano solo gli anelli ma ce li attaccheremo quindi con delle sbarre delle parallele e un po' di lavoro a corpo libero appunto con solo il peso del corpo si riesce a migliorare la capacità muscolare la capacità coordinativa e si sta meglio con il proprio corpo e con la propria mente è una di quelle discipline che insieme ad altre come diceva giustamente Esteban ci può rendere non solo atleti ma persone migliori ma questo infatti cosa dire per suggerire ai ragazzi agli studenti ai giovani che soprattutto in questo periodo fanno fatica ad approcciarsi al mondo dello sport quanto sia importante invece la pratica sportiva è molto importante per tanti motivi l'importante il consiglio che mi permetto di dare è farla con la giusta attenzione avvalendosi delle persone competenti cercando di fare lo sport migliore per le proprie caratteristiche le proprie capacità farlo quindi per benessere fisico ma anche con passione perché fa bene tantissimo anche la testa e qui credo che ci sia la possibilità di farlo nel modo migliore possibile grazie mille a Yuri Chechi e a c'è la curva di là ai giardinetti del giuriati siamo quasi alla fine al momento della staffetta e avrei bisogno del sindaco per dare via mentre stanno iniziando a scendere le prime gocce dare il via alla staffetta 4% con ragazzi atleti della squadra di atletica del Politecnico di Milano e alcuni dei campioni tra gli studenti di questo Ateneo che si sono contraddistinti negli ultimi anni proprio per i risultati sportivi che hanno tenuto e che hanno permesso loro di avere delle borse di studio sì il colpo di pistola verrà dato dall'assessora Guaineri oh mamma mia fa impressione ma un giocattolo cioè arriva da allora mantenendo una certa distanza tra questi campioni c'è Linda Olivieri che è una ragazza che studia architettura e ha ottenuto una borsa di studio per i risultati e successi ottenuti nei 400 metri ostacoli siamo pronti io direi di tenere una certa distanza colpo in alto là ci sono delle scuole qui giardinetti quindi nel dubbio verso gli spalti che hanno ok quante corsie tutte occupate o quasi staffetta 4% e con questa ci salutiamo attenzione è duro grilletto tutto posto tutto applauso applauso perché perché è stata la parte più delicata di questa cerimonia di inaugurazione del giuriati sport center siamo già al primo passaggio di testimone ecco ragazzi che stanno completando il giro sono tutti i ragazzi dell'università di Milano del Politecnico ragazzi studenti sportivi atleti che utilizzeranno da qui a quando vorranno questa struttura per praticare 12 discipline sportive per allenarsi per correre per giocare a paddola a calcetto a basket a pallavolo per fare calisthenics e attenzione perché ci siamo attenzione perché ci siamo soltanto un secondo colpo di pistola potrebbe fermarlo attenzione su rettilineo vince col testimone verde tra gli applausi di tutti voi che ringraziamo per la partecipazione qua si continua a giocare a calcio per chi si è prenotato per chi ne avesse voglia adesso un guido un giro di tutto il centro sportivo per ammirare quello che non avete visto cioè l'arena polifunzionale il fit center e tutte le strutture al chiuso grazie a tutti scusate un'informazione di servizio i ragazzi del dual career e delle borse di studio per meriti sportivi sono invitati a scendere sotto il gazebo per chi vuole fare il tour rimanga un attimo al proprio posto che i ragazzi con le giacche gialle vi accompagneranno grazie a tutti grazie a tutti